E' in programma domani sera alle 19 la Commissione Speciale Consigliare Sanità. E' stata convocata dal Presidente e il Consigliere Comunale Vincenzo Stile e si terrà a Palazzo di Città. All'ordine del giorno la carenza di personale sanitario all'ospedale Umberto I che ad inizio del mese ha portato alla riduzione dei posti letto da 18 a 14 in cardiologia. Sono stati invitati alla riunione i sindaci di Nocera Superiore e Pagani e il commissario straordinario dell'ASL Salerno Antonio Iervolino. Nel frattempo continua la raccolta di firme online per chiedere al Ministro della Sanità Giulia Grillo un concorso per reclutare personale sanitario da destinare agli ospedali della Campania. Sino ad oggi 4.000 persone hanno visitato la pagina attraverso la quale si può firmare la petizione. Le firme raccolte però sono soltanto 350. Troppo poco per un problema estremamente serio e ci troviamo alle porte dell'estate quando scatteranno le ferie.